7 novembre 2023 siamo arrivati a martedì quindi secondo giorno di questa prima settimana intera dell'undicesimo e penultimo mese del 2023 il saluto da ancora da parte di Marco Revello questa è la seconda edizione del nostro Tg Rassegna Stampa un saluto anche a chi è in regia in questa seconda edizione cioè Mattia Prestileo e in redazione abbiamo già Cristina Oneto che sta già preparando poi qualcosa che vedremo in diretta tra poco e intanto andiamo a vedere quali sono i santi ricordati e festeggiati in questa giornata del 7 di novembre la chiesa ricorda e festeggia San Prosdocimo di Padova Proto Vescovo lui era greco ma poi appunto in qualche modo legò il suo nome alla città veneta e ancora San Ernesto di Zuel Falten, San Vincenzo Grossi, San Tercolano di Perugia, Vescovo e Martire, San Fiorenzo di Strasburgo, San Villibrordo, Beato Antonio Baldinucci, San Lazzaro il Galesiota, San Gelberto di Colonia San Amaranto Martire, San Anteno d'Oro e San Baudino Baldo, San Cungaro e poi i martiri Giacinto Castaneta e Vincenzo Lecandiem, Ierone Compagni, Mamante Compagni e Pietro Wungonsend auguri quindi a tutti coloro che oggi festeggiano questi santi o coloro che oggi ricordano un lieto evento, un anniversario o che compiono gli anni in questo 7 di novembre che per noi quest'anno ha un valore, 7 novembre è esattamente il mesiversario diciamo così dello scoppio della nuova guerra in Palestina tra Hamas e Israele, ricorderete un anno fa proprio i fatti clamorosi l'aggressione diciamo di Hamas nei confronti del popolo israeliano perché non se l'è presa con l'esercito ma se l'è presa con cittadini privati, con ragazzi, con bambini, insomma sappiamo benissimo che cosa è accaduto l'8 ottobre del 2023 che in un certo senso rimarrà abbastanza una data storica come lo è stato l'11 settembre del 2001 adesso andiamo a vedere subito come è passata la notte dal punto di vista climatico quindi come ci sono comportate le temperature temperature l'avevamo detto un po' in diminuzione in questa notte e si è sentita parecchio la diminuzione anche sulla costa ma partiamo dai monti dove c'è stato lo zero termico alle 7 del mattino sul Monte Bue infatti la minima è di 0.1 e invece sul Prado della Cipolla 2.1 gradi sopra lo zero quindi non siamo scesi sotto zero come invece avevamo visto venerdì come sabato mattina però insomma siamo allo zero quindi temperature piuttosto basse, piuttosto rigide e tutto sommato nella media perché è normale che nei primi novembre almeno storicamente questi giorni sono anche i giorni delle prime nevicate sui monti, lo abbiamo visto anche sulle Alpi qua vediamo proprio una sbiancatura del Prado poi andiamo invece al Rocca d'Aveto con 4,3 gradi minima della notte 4,9 gradi a Rezzo Aglio Basso, 7,2 gradi la minima a Cabanne scendendo in Valle Sturla 10,6 gradi a Belpiano andiamo in Val Graveglia 11,3 gradi a Pontori in Val Fontanabuona iniziando da Favalli di Malvaro con 9,9 gradi,9 con Pezzo Nasca 9,8 gradi, San Colombano 12,2 poi saliamo un po' sulle alture di Tribogna a Pian dei Preti con 10,7 e a Villa Uneto con 11,1 gradi scendiamo invece nella Riviera scendiamo a 0 di altitudine con 14 gradi a Santa Margherita Ligure una minima di 12,5 gradi a Rapallo 13,2 gradi su Chiavari sul porto mentre nella zona interna per esempio a San Pier di Canne si sono toccati gli 11,8 gradi di minima poco di più 12,1 gradi in località Berissi a Lavagna a Sestri Levante 12,3 gradi a Moneglia 15,3 gradi passando invece nel Golfo Paradiso a Ruta di Camogli 12 gradi a Nervi 15,7 gradi nella città di Genova per esempio a Marassi 13,6 gradi nel Ponente Genovese a Pra 14,9 gradi a Savona 9,2 gradi quindi temperatura davvero molto rigide nel Savonese 9,1 gradi anche ad Imperia quindi vedete che il Ponente è già sotto l'influsso di venti settentrionali perché i venti settentrionali sono quelli che portano più freddo durante la notte quindi siamo sotto i 10 gradi addirittura sulla costa poco sopra 12,6 gradi su 20 miglia mentre invece nell'estremo Levanti questa tramontana non è ancora arrivata o tramontana comunque il vento dal nord non è ancora arrivato perché abbiamo 13,1 gradi e in effetti la Liguria è sempre un po' divisa in due e in questo periodo il Ponente e il Levante e in effetti sul Ponente abbiamo certamente un tempo più bello più bello, più soleggiato, più stabile da questo punto di vista sul Levante invece abbiamo un'alternanza sempre di schiarite, annuvolamenti e schiarite anche questa mattina ci siamo svegliati con un cielo particolarmente nuvoloso qua proprio sulla costa del Tiguglio adesso le cose stanno iniziando un po' a migliorare nel corso della giornata vedremo anche delle ampie schiarite ma mai come nel Ponente perché nel Ponente i venti sono già ruotati a nord e quindi sappiamo che invece da noi c'è ancora un flusso di libeccio che non è più quello dei giorni scorsi per fortuna però è sempre un flusso da sud ovest che porta comunque aria molto molto più instabile cioè più stabile, più umida quindi porta umidità e l'umidità si condensa diventando nuvolosità questo è quanto quindi in questo momento il tempo comunque è stabile non si possono escludere locali piovigini nelle zone interne soprattutto dell'estremo Levante ma saranno precipitazioni assolutamente non significative qualcosina in più invece nella giornata di giovedì perché nella giornata di giovedì c'è un passaggio di perturbazione che per fortuna in questo caso non sembra rappresentare un pericolo quindi è una perturbazione diciamo tra virgolette normale anche se ormai di perturbazioni normali non ne vediamo più tante in questi ultimi anni ma porterà della pioggia senza delle ramate almeno queste sono le previsioni al momento poi naturalmente ci aggiorneremo domani comunque questi due giorni oggi e domani saranno caratterizzati da tempo più stabile anche se un po' variabile qua sul Levante proprio per questo flusso ancora da sud che porta come abbiamo detto quest'aria molto umida e quindi portatrice di nuvole ma tutto sommato nuvole abbastanza innocue allora adesso andiamo sulla prima pagina del quotidiano della CEI cioè avvenire strage su strage questo è il titolo scelto un mese fa il progrom di Hamas 1400 ebrei seviziati e uccisi come abbiamo detto non sono stati presi di mira le forze armate, le caserme, non so che cosa o le forze di polizia sono stati presi di mira i cittadini civili quindi i giovani poi soprattutto i bambini Israele in guerra la denuncia a Gaza superati 10.000 morti l'ONU un cimitero di bimbi Blinken vede Erdogan si inizia a immaginare un futuro senza terroristi Università di Napoli occupata per proteste e l'editoriale di Marina Corradi l'odio si eradica solo nel cuore ciò che i figli ricorderanno l'incontro dei bambini con il Papa in Vaticano l'abbiamo proposto ieri sia in diretta che poi anche in differita diciamo così nel prime time alle ore 21 7.000 in Vaticano da 84 paesi con domande semplici ma anche scomode il Papa fida la pace ai bambini e poi ancora cittadinanza italiana a Indy Indy è una piccola bimba inglese Indy Gregory di 8 mesi affetta da una patologia mitocondriale e per tentare di salvarla perché nel suo paese le avrebbero staccato la spina da ieri Indy è cittadina italiana l'ultima parola però ai giudici britannici che potrebbero avvocare a sé comunque il diritto di decidere su questa bimba e vedremo se no se i giudici lo consentiranno visto che è una cittadina italiana potrà venire in Italia poi per la prima volta in realtà nella sua vita ed essere operata naufraghi da esportazione in Albania richiedenti asilo intesa Meloni-Rama cioè Rama è il capo del governo appunto albanese centri per migranti raccolti in mare in un paese estero e poi ancora messa alla Trinità odiosputi ai fedeli il caso Claps e la protesta e poi ancora maltempo Campi Bisenzio in crisi in Emilia sono arrivati pochi fondi per rimettere a sesto dopo i danni dell'alluvione della primavera scorsa poi Airbnb evade le tasse sequestrati 779 milioni andiamo sulla prima pagina del secolo decimo nonno in Albania i nostri boat people ricordate quando erano i tempi in cui dall'Albania arrivavano i boat people erano gli anni gli anni 80 primi anni 90 poi per essere sinceri accordo con Tirana saranno costruiti campi per migranti salvati dalla marina Meloni modello innovativo dubbi dall'Europa il premier albanese Rama se Roma chiama noi ci siamo non vogliamo soldi l'intesa riguarda 39 mila profughi l'anno il partito democratico dice un pasticcio peggio è una violazione di diritti umani e poi appunto si parla di coste però in quanto come abbiamo visto danneggiate dalla forza del mare parla il ministro Musumeci coste da salvaguardare ma per i balneari non c'è certezza quindi anche in questo caso non si vuole dare una scorciatoia diciamo alla questione della appunto della cosiddetta Bolkstein la direttiva europea patto di stabilità Giorgetti attacca lo stop dall'Unione Europea e il MES voto rinviato il famoso fondo salva stati e poi ancora la notizia che abbiamo visto sulla pagina di avvenire Indie senza speranza cittadinanza italiana per tentare nuove cure poi c'è un'iniziativa che parte dalla Liguria questo mega mortaio per il pesto in mezzo al Tamigi siamo a Londra vedete il famoso ponte quel pesto che non va giù critica dall'iniziativa del mortaio sul Tamigi Toscani dice gli inglesi non sanno neppure cosa sia la Liguria Gaza 10.000 morti Israele pronto all'assalto finale poi due commenti uno di Domenico Quirico l'occidente non vuole vedere l'orrore e l'altro di Lucia Annunziata la tregua non è proprio impossibile e poi uccide il marito nel sonno poi si suicida accanto a lui la sorella dice vita non era amatta caccia i prodotti scontati l'osservatorio sui supermercati Liguri sono al top in Italia e poi l'annuncio ieri a sorpresa durante la prima trasmissione di Fiorello dal Foro Italico Mengoni con Amadeus la prima sera a Sanremo sarà da vincitore dello scorso anno il primo co-conduttore di questa edizione 2024 cioè la prossima edizione 2024 del Festival di Sanremo Marco Mengoni appunto a fianco ad Amadeus a questo punto andiamo anche nelle pagine interne del secolo XIX e chiaramente iniziamo parlando della mareggiata che in qualche modo insomma ancora è attiva anche se questa mattina il moto ondoso è ulteriormente sceso rispetto a ieri ma il mare non diventerà proprio una tavola piatta insomma sarà ancora mosso per alcuni giorni anche se sotto costa il moto ondoso è calato decisamente per fortuna anche perché è il momento adesso della conta dei danni danni milionari dal mare superata l'emergenza conta di comune e anche di privati perché chiaramente il mare ha invaso anche appunto abitazioni al piano terra eccetera eccetera quindi è chiaro che ci sono anche danni da parte dei privati fondi e i negozi e tutto quanto ristoranti abbiamo avuto abbiamo visto come per esempio la passeggiata mare di Portovenere sia stata completamente inondata da Reco a Moneglia muri crollati passarelle di velte moli e rosi passeggiate rovinate a Camogli la furia dei marosi ha sgretolato la scalinata che porta al Castel Dragone appunto diciamo quello che è un po' il simbolo anche di Camogli e poi ancora a Sessi Levante resta chiuso il parcheggio interrato Sant'Anna sopra luogo del sindaco Solinas arriva perché arriva sicuramente la parte di Sessi Levante che ha subito i maggiori danni da questa mareggiata molto meno colpito chiaramente il Tigulio occidentale però insomma anche lì ci sono adesso delle spiagge praticamente cancellate e a proposito di spiagge andiamo a vedere cos'è cosa è successo a Lavagna un po' meno danni si dice per via della diga soffolta ok da Lavagna e Sessi diga soffolta se che promosse dal crash test i sistemi realizzati hanno retto smorzando la forza d'urto d'urto delle onde il sindaco Mangiante se non avessimo avuto questa barriera danni assai più pesanti e i danni naturalmente sono dei balneari in particolare perché sono quelli che chiaramente insistono di più sul mare balneari esasperati dalle calamità naturali e dal caos della Bolkstein senza certezze non si investe le polizie non coprono tutto le polizie appunto contro eventuali danni del maltempo lo sappiamo anche noi automobilisti cioè farci assicurare l'auto contro i danni del maltempo è praticamente impossibile e così anche su alcune strutture quindi le assicurazioni coprono ma fino veramente fino a un certo punto anche un punto molto limitato ma il problema dei balneari e del balneatore adesso è capire cosa succede con la direttiva Bolkstein se adesso i danni che sono stati appunto evidenti in queste giornate di mareggiata dovranno essere coperte dal prossimo gestore dal gestore attuale insomma anche queste problematiche non sono di facile risoluzione e vediamo a quanto ammontano i danni dei balneari qua nel Tiguglio nel nostro servizio direi che siamo sul livello del 2018 dalla mareggiata del 2018 e ci sono stati diversi danni parecchi danni alle strutture degli stabilimenti balneari la piattaforma in cemento armato sollevata e tranciata di netto alla base muretti in mattoni e cabine abbattuti una spessa porta in acciaio quasi sfondata i danni agli stabilimenti balneari del Levante la cui conta continua in queste ore fanno solo intuire la forza con la quale il mare ha sferzato il litorale in questi giorni oggi il mare è ancora mosso ma decisamente meno forse ore quando l'Ibeccio ha spinto contro la costa onde di oltre 7 metri per due giorni quasi consecutivi iniziando venerdì per replicare nello stesso identico modo anche domenica il mare distruttivo sia venerdì notte che ieri notte hanno picchiato molto 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 forte onde così se ne vedono raramente ma ultimamente direi che 2018 2023 sono passati 5 anni nel mezzo dei tifoni e tutti gli anni siamo a contare dei danni secondo una prima stima si parla di danni per oltre 400 mila euro in queste ore le associazioni di categoria dei balneari sono in contatto con la regione e le segreterie nazionali per chiedere la possibilità di qualche forma di risarcimento all'incertezza delle concessioni che non sappiamo se l'anno prossimo ci saremo ancora è subentrato anche questa emergenza e questi danni che ormai sono all'ordinario e non all'ostraordinario c'è chi ha detto i balneari non si vogliono assicurare contro questi eventi è possibile farlo? non è possibile noi ci vorremmo assicurare ma non esiste compagnia assicurativa che assicura contro il mare andrebbero sicuramente in perdita le assicurazioni e invece di andare in perdita le assicurazioni ci andiamo noi nei prossimi giorni sarà da mettere in campo anche una ricognizione dei danni subiti dalle difese a mare a Lavagna i pennelli hanno protetto la costa ma in alcuni casi non hanno retto la forza delle onde bisognerà vedere anche le condizioni della diga soffolta perché andrà sicuramente rimpinguata rinforzata perché come è stata fatta è stato un accenno ecco però devo dire che come dicevamo noi da molto tempo l'idea di mettere queste diga soffolte è una buona idea aiutato a mitigare i danni il secolo ci racconta anche di un'iniziativa presa dalla North Sale sapete che la North Sale non è solo produttrice di vele ma anche di abbigliamento per il mare eccetera ha una sede a Rapallo che è stata chiusa per permettere ai suoi impiegati di andare a Genova alla foce di Genova per ripulire la spiaggia North Sale ha una sede chiusa a Rapallo i dipendenti puliscono la spiaggia l'azienda accanto agli impiegati i volontari ha la foce a Genova volontari però insomma hanno potuto farlo grazie alla chiusura della sede quindi al fatto che non dovevano non erano costretti ad andare a lavorare nella giornata di ieri andiamo anche nell'entroterra dove ci sono stati chiaramente altri danni del maltempo delle piogge delle perturbazioni delle precipitazioni in questo caso di queste perturbazioni che comunque ci hanno colpito in serie praticamente sono stati 20 giorni quasi di allerta meteo via una e arriva l'altra insomma quindi la forza di queste precipitazioni soprattutto il terreno così pregno d'acqua è chiaramente tutto diciamo l'ingrediente giusto per smottamenti per frane importanti come quelli che si sono verificate sulla 586 la statale della Val Daveto ma anche sulla strada della Scoglina e qua sono ancora i due punti chiusi i due punti critici in questo momento la statale 586 non riapre come invece era stato preannunciato per la giornata di ieri vedremo oggi la pioggia degli ultimi giorni ha reso più complicata del previsto la bonifica di questa frana ieri chiusa alcune ore per un'altra frana anche la strada comunale di Recroso e la situazione nelle vallate d'entroterra dopo l'ondata di maltempo sempre interdetta anche la provinciale della Scoglina servono altri giorni di lavoro proprio per frantumare i grossi massi che si sono staccati dalla parete qua invece si è al lavoro a Borzonasca per ripristinare la circolazione tra la città la cittadina e il passo della forcella adesso raggiungibile ma attraverso la lunga strada di Belpiano e appunto e poi arrivare fino alla forcella quindi davvero un giro molto lungo che passa da acero eccetera quindi si lavora allacremente mareggiata meno intensa di quella del 2018 a livello di altezza delle onde eccetera ma più lunga quella del 2018 era stata una mareggiata di 24 ore questa volta il mare invece è stato infuriato per almeno quattro giorni quasi consecutivi con piccoli cali molti di appunto di diminuzione ma poi domenica si è rinvigorito il vento e quindi anche il mare quindi davvero spiegazioni ce ne sono tante però questi fenomeni sono sempre più frequenti se pensiamo dal 2000 in poi quante mareggiate importanti hanno colpito la nostra zona ci ricordiamo bene quella del 2018 per i danni soprattutto nel Tigulio occidentale però ce ne sono state davvero tante 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 altre qua vediamo un volontario della protezione civile al lavoro a Cavi Borgo sono sempre diciamo più preziosi i volontari gli uomini della protezione civile fondamentali contro le emergenze dice appunto questo articolo di Paola Pastorelli e poi ancora dalla stessa pagina del secolo non c'entra nulla col maltempo chiaramente però guarda medica nell'entroterra confronto tra i sindaci e l'ASL4 il servizio richiesto dei primi cittadini è fondamentale dicono appunto i sindaci per le nostre località quindi richiedono almeno la presenza di una guardia medica dedicata soltanto ai comuni dell'entroterra cambiamo decisamente argomento passiamo ad altre questioni dal Tiguglio e ieri appunto è un po' esploso un caso sui social a Santa Margherita Ligure sulla possibile chiusura del convento dei frati Capuccini è notizia delle scorse settimane la chiusura del convento di Sestri Levante e già da alcuni anni e soprattutto in questi ultimi mesi si sono rafforzate le voci rumor nella città di una possibile chiusura anche del convento di Santa Margherita Ligure con eventuale vendita di tutta la proprietà dei frati ed eventuale anche speculazione perché ricordiamo che il convento di Santa Margherita insiste come quello di Sestri Levante e d'altronde su una delle zone più belle della città con vista mare meravigliosa e quindi potrebbe essere appetibile da alcune società qualcuno dice che addirittura è già pronta una grande immobiliare svizzera ad acquisire tutto quanto andiamo a leggere oggi sul secolo convento Capuccini scatta l'allarme rischio vendita ma dal diciamo dal padre provinciale si dice che nulla è deciso il padre provinciale dice tante ipotesi al vaglio Santa Margherita la tiguliana di Marco Del Pino l'associazione di Marco Del Pino lancia questo sasso nello stagno cioè mette nero su bianco qualcosa che già in paese era quasi di dominio pubblico e diciamo lancia soprattutto una iniziativa rivolta a tutte le altre associazioni di Santa Margherita Ligure per mobilizzarsi contro l'eventuale vendita di questo patrimonio e invece una presa in carico diciamo della struttura da parte per esempio di associazioni oppure di confraternite insomma di coloro che possono comunque tenere in vita sia il chiaramente la chiesa che sarebbe davvero un danno grande la mancanza soprattutto di una pastorale e poi anche della proprietà stessa dei cappuccini cena al Mediterraneo per il pranzo di Natale offerto a chi non ha casa Santa Margherita Ligure l'iniziativa è della comunità di Sant'Egidio Natale per tutti è il principio da cui trae origine l'evento di giovedì sera al Mediterraneo Motion Hotel di Santa Margherita Ligure e poi ancora compagnia delle opere e imprenditoria locale l'incontro al Gabbiano questa sera con Giuseppe Costa e Gabriele Maestri e poi andiamo ad alcuni compleanni cioè uno in particolare è la festa per i cento anni di Luigia Seghezzo ieri ha compiuto cento anni a Recco ed è stata festeggiata dal sindaco che vediamo in questa foto Carlo Gandolfo adesso però vedo pronta dalla redazione Cristina Oneto quindi credo che andremo a parlare di calcio almeno suppongo buongiorno Cristina e supponi bene grazie Marco un saluto a tutti si parliamo di calcio andiamo a completare la giornata per quanto riguarda il campionato di Lega Pro con il risultato maturato ieri sera nello stadio di Recanati tra Recanatese e Sestri Levante un pareggio 2 a 2 con una partita che è stata molto combattuta soprattutto che ha tenuto molto col fiato sospeso sino agli ultimi minuti di gioco il Sestri Levante che è andato in svantaggio di due reti nel primo tempo segnate al quarto di gioco da Sbaffo al diciassettesimo da Merchiorri e poi che in rimonta è riuscita a portare a casa un punto prezioso per la classifica i gol portano entrambi la firma di Candiano a segno al trentasettesimo e al settantaquattresimo su rigore ma è stato proprio il finale della partita che ha suscitato particolari emozioni e ha suscitato anche un commento del mister Enrico Barillari che andiamo ad ascoltare insieme poi la Lina può tornare allo studio il finale a me fa arrabbiare che da un rigore sbagliato si possa arrivare a concedere un contropiede del primo rigore da un altro tipo il rigore sbagliato fa parte della partita del calcio quindi devi saper gestire anche questi momenti però che siamo giovani e come i giovani stacchiamo il cervello e quindi abbiamo rischiato di buttare via un'ottima prestazione poi si poteva vincere pareggiare perdere queste partite vado sugli episodi sono un po' di fortuna però io devo valutare la prestazione la prestazione c'è stata ma macchiata dagli errori veramente grossi il Sestri Levante non ha mai mollato l'avvio è stato difficilissimo 1-2 della Re Canadese ma non avete al retrato di un centimetro una squadra che veniva fuori con il palleggio ma guardi noi stiamo cercando di impostare questo tipo di gioco contro chiunque l'abbiamo fatto a Cesena l'abbiamo fatto con la Carrese a Tratti con la Spal e lo proviamo a fare dappertutto perché tanto non avendo uno stadio di casa poi voi sapete bene come funziona questo problema e dobbiamo tirare fuori dalla personalità quindi è inutile fare le barricchiate solo che abbiamo sbagliato tante cose all'inizio magari ci ho messo una cosa anche di mio poi l'ho aggiustato un attimo e i ragazzi hanno reagito bene sono rimasti partiti è un Sestri Levante che finora ha raccolto meno di quanto seminato beh questo mi sento di poterlo dire anch'io nel senso che a qualche punto per la strada ci manca oggi secondo me raccogliamo il punto che era giusto raccogliere non meritavamo né di vincere né di perdere a mio diritto e ritorniamo sulle pagine del secolo XIX Federica Angeli a Sestri Levante l'incontro con i ragazzi del D'Ambrosis Natta appunto Federica Angeli e suo figlio Lorenzo Coluzzi da dieci anni vive sotto scorta per avere denunciato il sistema mafioso di Ostia dove vive appunto una persona che però ha fatto il suo dovere ha fatto il suo dovere anche come insegnante di ginnastica aveva compiuto 104 anni ed è mancata nei giorni scorsi Laura Zaniboni aveva appunto compiuto 104 anni ed era nota come insegnante di ginnastica di educazione fisica andiamo adesso ad altri argomenti sempre dal secolo XIX la comunità del Tiguglio è più sola dimenticata la guerra in Ucraina dicono soprattutto coloro che dall'Ucraina sono arrivati in Italia e Virazadius dice le famiglie che da qui sono ritornate a casa stanno vivendo una situazione drammatica la referente del gruppo Riviera ha dichiarato al secolo si avvicina all'inverno i nostri soldati chiedono soprattutto luci frontali sacchiappelo e medicinali adesso raccogliamo principalmente offerte per comprare tutto ciò che lassù serve di più quindi non si fa più la raccolta diciamo di generi alimentari di indumenti e quant'altro ma una raccolta di denaro andiamo invece all'associazione familiari e comitato del Tiguglio che celebra il suo ventennale vediamo una foto di gruppo appunto con Spinetti lo Iacono e i partecipanti al progetto del comitato sabato il forum famiglia un cantiere aperto appunto a Chiavari per ricordare questi 20 anni di attività l'appuntamento dalle 9 alle 12 al centro Benedetto Acquarone e ancora l'Accademia Culturale di Rapallo cominciata l'attività della nuova stagione 2022 sì 2023 2024 si è aperto il 45esimo anno degli incontri rapallesi Lorenzelli a Villa Queirolo e poi un calendario davvero molto fitto di altri appuntamenti durante tutto questo anno sociale ancora dal secolo di oggi 11 nuovi casi di peste suina 2 a Borzonasca 1 a Neirone il sindaco di Borzonasca Maschio dice uscita dalla zona rossa si allontana Sudermania cambio scarpe sempre valido emergenza tra i cinghiali dell'entroterra la certifica l'istituto zoo profilatico sperimentale di Piemonte Liguria Liguria Valdaosta e ancora il ritorno all'obbligatorietà della mascherina all'interno dei reparti ospedalieri disposizione dell'asl 4 pedralia attenzione massima nei reparti con degenti contagiati dal coronavirus e ancora senza stanza della droga e piantagione pusher va in manette controlli dei carabinieri in tutta la Val Fontana Buona Ancora dal secolo di oggi dall'Olanda per scoprire il patrimonio del Tigullio alcuni ragazzi per il progetto Erasmus sono arrivati nel nostro territorio e hanno potuto visitare delle strutture importanti anche al di là del turismo dell'aspetto artistico o comunque storico e sono andati a visitare un bel frantoio a Lavagna e ancora non ci fermiamo ancora dal secolo XIX di oggi andiamo a vedere i ricordi dello scrittore Mario Dentone Zoagli quando ci vai poi ritorni è il mini presepio della riviera tra Chiaveri e Rapallo un nome di passaggio e invece dopo averla scolperta te ne innamori la patria dei tessuti e il nido di Nice e di Sam Benelli che qui scrisse di vivere e di morire vediamo appunto il suo famoso castello che si affaccia proprio sul mare del Tiguglio e poi ancora naturalmente mamma tre giorni in vista del parto in un'azienda agricola Neirone Terre Vere propone un ritiro per demedicalizzare la maternità insomma un termine un po' difficile per dire insomma di fare qualcosa prima di diventare mamma e che non sia proprio un aspetto soltanto medico a questo punto andiamo anche a vedere gli appuntamenti della giornata nella nostra consueta agenda martedì 7 novembre come di consueto dalle 9 alle 13 a Sestri Levante nella piazzetta di via Salvi nella zona del Tannino ci sarà il mercatino agricole delle autoproduzioni con prodotti agricoli a chilometro zero e trasformati come la letteratura può stimolare la coscienza critica e responsabile e contrastare la cultura mafiosa è il tema dell'incontro per le scuole che Libera Genova organizza Palazzo Ducale alle 9.30 oltre al referente di Libera Liguria Andrea Macario ci saranno il giornalista d'inchiesta Sandro Ruotolo e Stefano Busi dello Spicci GL Genova a Palazzo San Giorgio inizia alle 10.30 la giornata di studi dedicata a Cristoforo Colombo in mattinata gli interventi di giornalisti ed esperti del mondo della comunicazione seguirà una lettura a più voci dal dramma Cristoforo Colombo di Miroslav Krezza a cura di Eugenio Bonaccorsi storico del teatro e un'esibizione del chitarrista Gianluca Amelio Peirano del Conservatorio Paganini nel pomeriggio confronto sul percorso di ricerca intrapreso con la conferenza L'immaginario su Cristoforo Colombo lo scorso 6 ottobre a Palazzo Tursi inizierà alle 17.30 la cerimonia per la consegna del premio europeo Rapallo Biperbanca la scrittrice irlandese Katrin Dan vincitrice della prima edizione del premio dialogherà con la coordinatrice Margherita Rubino la cerimonia si svolge nel salone di rappresentanza della sede posti dalla scuola di formazione teologica di Chiavari a Rapallo nel salone della casa della gioventù alle 21 si tiene il primo dei quattro incontri sul tema perché siamo tutti così fragili dedicato ai primi 11 capitoli del libro della Genesi fra i relatori Paolo Costa Lidia Maggi e Alberto Reginati Oggi situazione migliore a Ponente qua sul Levante ci saranno delle nuvole variabili insomma di passaggio però anche qua il soleggiamento sarà diciamo maggioritario fondamentale nel corso della giornata non si possono escludere locali precipitazioni senza particolare significato però insomma senza grande forza sulle parti interne dello spezzino giornata caratterizzata anche da un calo dei venti che comunque continuano ad essere di libecio forte a largo in zona Capomele mentre invece sono solo moderati sulla riviera di Levante variabile invece il vento sul resto della regione in particolare sulla costa centrale da nord sul Ponente il mare rimane agitato a largo mosso sul Levante sui rimanenti settori e poi per quanto riguarda le temperature sono state in calo abbiamo visto durante la notte anche durante il giorno insomma non andranno oltre i 19 gradi per domani mercoledì 8 novembre più o meno stesso tipo di tempo con il Ponente caratterizzato soprattutto da ampi e ampi scarite qualche velatura il Levante ancora da qualche passaggio nuvoloso variabile nel corso della giornata poi aumenta la nuvolosità ovunque in serata venti di libeccio teso a largo moderato ciclonico sul golfo mare tramosso e molto mosso e temperature stazionarie tempo impeggioramento nella giornata di giovedì quando è previsto il passaggio di una perturbazione che però al momento non si preannuncia particolarmente intensa quindi ci saranno piogge ma non dovrebbero spaventarci più di tanto anche se in un contesto come quello Ligure in cui ci sono state precipitazioni per venti giorni insomma anche poca pioggia un pochino può portare qualche apprezzione grazie a Mattia Prestileo che ha curato la parte tecnica in regia Cristiano Oneto che abbiamo visto in redazione insieme ai colleghi preparerà il telegiornale non dalle 12.45 noi ci vediamo domattina ore 7.30 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti grazie a tutti